Una mostra sicuramente particolare che nasce da un progetto, dalla cura degli studenti, di cosa si tratta e come ha preso forma? Questa è una mostra che vuole rendere omaggio a un movimento, a un grande movimento artistico che è stato definito l'ultima vanguardia, che si è sviluppato in Europa tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, e poi ha avuto, proseguo, anche negli anni 70, infatti, come possiamo vedere dalle opere, e che nasce dall'esigenza di superare l'informale. Negli anni, appunto, in quel periodo lì, questi giovani artisti che si dedicavano a studi di tecnologia e di psicologia della forma portano avanti questo, diciamo, questo progetto di costruzione dell'arte attraverso proprio una progettazione, quindi un progetto che fosse anche un programma di intervento nella collettività, nella socialità. E creano questi oggetti, loro non li chiamano opere d'arte, creano degli oggetti che mettono in moto, diciamo, non solo la vista, ma anche gli altri sensi, creano una situazione di percezione visiva diversa da quella che poteva dare un'opera d'arte tradizionale, cioè lo spettatore entra in relazione con l'opera perché, o come in questo caso, spostandosi adesso a sinistra l'opera si muove, e quindi c'è una partecipazione emotiva a questo movimento dell'opera, oppure, come nel caso degli oggetti in movimento, dei motorini e delle luci creano situazioni, diciamo, di dinamismo che catturano l'attenzione. In realtà tutte queste immagini che poi, noi sappiamo, hanno preso, diciamo, corpo in tutta una serie di immagini pubblicitarie, diciamo, che si sono avvicendate nel tempo per cui poi si è persa un po' la dimensione della storia di questo movimento che appunto negli anni 50 in tutta Europa ha legato insieme tutti i giovani artisti che si muovevano sulla tecnologia, che volevano coniugare arte e tecnologia.